Reflessologia, riflessologie. Le riflessologie sono la proiezione completa, ancestrale di tutto il corpo solo su una parte di esso. È come se fotografassimo una persona, rimpicciolissimo la foto e la proiettassimo sui piedi. Le riflessologie sono un concetto relativamente moderno. Le riflessologie non hanno niente di antico. Nell'antichità non è mai stato preso in considerazione il concetto riflessologico come noi lo intendiamo. Quando parliamo di riflessologia del piede, in particolar modo, parliamo di riflessologia zu, che ha qualcosa di particolare. Lo zu in cinese corrisponde al calcagno. Il cinese è una lingua che si interpreta, che non si traduce. Ogni ideogramma può essere interpretato a diversi livelli di comprensione, più o meno intellettuale, esoterica e così via. In ogni piede ci sono 26 ossa. Queste 26 ossa si muovono per mezzo di 32 articolazioni. Sotto i piedi arrivano più di 27 mila terminazioni nervose. Considerando 32 articolazioni per ogni piede, abbiamo due piedi, abbiamo 64 articolazioni solo per camminare. Quindi nel momento in cui una piccola articolazione, le faccette articolari si disallineano, esiste un effetto domino per cui lo scarico del peso si diversifica su un piede e conseguentemente sull'altro piede perché camminiamo con due piedi. Quindi è sufficiente una piccola sublussazione, una distorsione di una piccola articolazione, tutto il sistema osteoarticolare e della deambulazione ne risente. Quando parliamo di zu in cinese, il cinese più comune, più commerciale, più relazionale, si intende il piede, che può essere il piede per camminare.